Sto facendo Abbiamo la 1060G1 della Gigabyte Abbiamo il dissipatore della Cooler Master Seidon versione 2 16GB di RAM 4x2 da 2666MHz Un harddisk da 1TB E un SSD da 250GB della Samsung Come alimentatore avremo un alimentatore della Corsair VS 650W E poi quello che conterrà tutti questi componenti sarà il case nuovo della Cooler Master Insieme a MSI, la Gaming Edition Guardate quanto è bello Ragazzi prima di iniziare al montaggio vi chiedo di scatenarvi Scatenate i like, scatenate i commenti, non vi dico un limite E soprattutto ragazzi iscrivetevi Ci becchiamo al montaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.